Cambia il motulo, macerata, ma non cambia il risultato. No, guarda, eravamo un po'... volevamo provare questa squadra, leggevamo anche sui giornali che la gente si aspettava, voleva vedere come giocavamo, come era l'esordio e devo dire che io sinceramente ero fiducioso perché ci stiamo allenando bene. Ivan quest'oggi ha fatto una partita strepitosa, sapevamo che lui è veramente stato un acquisto importante, quindi noi tutti abbiamo giocato un buon partita ma non abbiamo giocato al massimo, quindi questo ci fa ben sperare. Non abbiamo battuto come sappiamo, abbiamo fatto degli errori un po' così, quindi questa cosa qua ci fa ben sperare per le prossime partite. Si può dire che forse macerata sarà più forte l'anno scorso? Secondo me sì, non so se saremo più forti, però potremmo esserlo, possiamo esserlo perché siamo veramente un gruppo, io posso dire stupendo perché siamo quasi tutti coetanei più o meno, è una bellissima cosa, ci troviamo veramente bene, non è una frase fatta e questo fa sì che riusciamo a giocare nel migliore dei modi. Una di Stipolpaccio! Che siate lo stesso gruppo sin nazionale che nel club è un vantaggio? Sì, è una bellissima cosa perché comunque riusciamo a trovare un feeling con Dragan e con gli altri compagni che altri nazionali non hanno, quindi riuscire a giocare nel club e nei nazionali insieme è splendido. Vi state mai sull'anima? Guarda, devo dire di no, devo dire che litighiamo veramente poco, quindi questa è una bella cosa e un valore aggiunto.